Allora, c'era un altro, vieni. Aspetta, c'era lui che voleva parlare. Anche tu puoi parlare. Dobbiamo poi chiudere. Allora, Giuseppe Fontana. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppe Fontana e sono di Castelvetrano. Città tristamente famosa per aver dato la natalità a Matteo Mastiani De Naro. Io sono stato in prigione, in durissima prigione per lunghi 18 anni e mezzo. Ho fatto tutto il percorso del... No, 41 no, ma ho fatto di peggio. Io, essendomi occupato dei diritti dei detenuti e avendo collaborato con Irene Testa, del detenuto ignoto dei radicali, e con Patrizio Connella per Antigone, ho subito centinaia di trasferimenti, pestaggi, e ho avuto il privilegio di passare gran parte della prigionia nelle famose celle lisce, che sono, non sono un 41 bis, ma sono un 82 bis. E' una celle inesistente dove il detenuto o il pigioniere viene sistematicamente annichilito, cioè viene eliminato. Sai che c'è stato un pronunciamento su questo? Sì, sì, sì. Sull'isolamento? Eh, so che i direttori non ammettono l'esistenza delle celle lisce. Sì, e c'è stato qualche direttore che lo ha ammesso, ma comunque penso che bisognerebbe aprire veramente lì un fascicolo su questo punto, perché lì in quelle celle sono stati eliminati parecchi prigionieri, fisicamente ma anche tantissimi psicologicamente. Io sono un sopravvissuto perché, come quel personaggio di Standing Daryl, di Jake London, ho lasciato il corpo nella cella e ho viaggiato nella mia dimensione peruranea, quindi mi sono salvato. Ma mi sono salvato più che altro per la forza che mi ha dato nella lotta per la difesa di tutti i detenuti di cui mi sono occupato. Ma io comunque non ho preso la parola per parlare di me. Io sono qui per fare due cose. Uno per invitarvi a venire a Castelvetrano e l'altro sono qui per denunciare pubblicamente, affinché tutta Italia lo venga a sapere, che a Castelvetrano in questo momento c'è il coprifuoco. Nel senso che noi subiamo una repressione inaudita. In nome di una pseudo lotta alla mafia, la pseudo antimafia sequestra tutto ciò che è sequestrabile, cioè tutto ciò che è lì, che c'è denaro e c'è materia, perché tutto è di Matteo Messia Denaro. Quindi tutte le aziende vengono tutte sequestrate e molte partite IVE chiudono perché il sistema repressivo ha creato tutte quelle condizioni per agonizzare l'economia. Da noi a Castelvetrano non funziona più nulla, non c'è luce, abbiamo le strade rotte, la spazzola in mezzo alla strada, gli impiegati non prendono stipendio, abbiamo polizia ovunque, i cittadini vengono giornalmente chiamati segretamente nelle caserme, vengono minacciati a collaborare, altrimenti vengono sequestrano la macchina o le attività e abbiamo un sistema tipico della vecchia DDR dove praticamente hanno tentato, e si sono riusciti di mettere i padri contro i figli, i figli contro la madre, della madre contro il marito, quindi inducono alla delazione forzata con il terrore. A Castelvetrano in questo momento vige il terrore. Quindi noi invitiamo i radicali a venire a Castelvetrano a verificare, a portare un po' una voce perché la situazione è gravissima, il regime della cupola antimafia, quindi della nuova mafia, in nome di Matteo Messidenaro, tiene in ostaggio 33 mila persone che terrorizza giornalmente, perché tutti collusi secondo il regime nazi, mafio, sbirresco, così come chiamo io. Quindi io concludo qui, invito i radicali, invito anche chi può venire a Castelvetrano che rappresenti una voce, che rappresenti una forza rivoluzionaria per la giustizia a venire a dare un po' di ossigeno ai castelvetranesi che sono terrorizzati. E il fatto che io sia soltanto, stasera sono da solo qui a Castelvetrano, qui questo è proprio emblematico, cioè i castelvetranesi sono terrorizzati. Grazie Rita. Grazie.